La duchessa del cinema italiano Eleonora Rossidrago e Gabriele Ferzetti sono i protagonisti del film Vestire gli ignudi, di Marcello Pagliero che uscì nelle sale cinematografiche nell'estate del 1954. Un melodramma modernista sicuramente da riscoprire, tratto da una commedia teatrale del 1922 di Luigi Pirandello, il titolo sta a significare il fatto che le persone, metaforicamente, tendono a vestirsi con vestiti sporcheri e laceri che le vengono dati da altre persone, ovvero una specie di maschera che viene fatta indossare per coprire quella che è la reale personalità degli uomini. Questo è il caso di Arsilia Drey, la protagonista del film interpretata da Eleonora Rossidrago, che giunge a Roma e tenta il suicidio, dopo essere stata scacciata dalla casa in cui lavorava a seguito della morte della bambina cui faceva da istitutrice. A Roma, sul letto dell'ospedale, racconta a un giornalista il suo passato. L'opera di Pirandello viene sceneggiata da Marcello Pagliero, da Ennio Flaiano, Defeo e Spak, il padre della più famosa Katherine Spak. E vengono portate alcune sostanziali modifiche, ad esempio il personaggio di Ludovico, il romanziere che ritrova, dopo il tentato suicidio, la protagonista, viene nel film notevolmente ringiovanito e diventa, diciamo, uno dei protagonisti stessi del film. Poi l'azione viene spostata all'interno del film negli anni 50 e il lavoro della protagonista di istitutrice non è più a Smirne ma è nei dintorni di Roma. I sceneggiatori poi si concentrano sulla parte più morbosa della storia, parlando appunto di violenza sessuale e parlando anche di prostituzione. Dal resto siamo negli anni 50 e gli italiani amano in maniera quasi morbosa tutto quello che è la cronaca nera. Dal resto in una sequenza del film si possono notare proprio i giornalisti e i fotografi che seguono in maniera costante le vicende appunto del tentato suicidio di Ersilia. La pellicola di Pagliero si allinea a un certo tipo di produzione dell'epoca, quello del melò modernista che era stato inaugurato dal grande Vittorio Cottafavi con film molto significativi come Nel gorgo del peccato e Una donna libera. Dal punto di vista visivo Pagliero fa un lavoro sopraffine, vengono utilizzati molto i campi lunghi come ad esempio la sequenza in cui la protagonista si prostituisce e la macchina da presa sta a una certa distanza quasi per pudore, del resto siamo soltanto nel 1954. E poi viene fatto un ottimo lavoro di profondità di campo e di primi piani per mettere in risalto le espressioni della protagonista. Interessante l'escamotage del flashback nel quale la protagonista ricorda il suo tumultuoso passato attraverso la sua voce fuori campo che descrive quello che sta avvenendo appunto sullo schermo, il tutto condito con una musica sovrabbondante fatta con il pianoforte diretta da Franco Mannino che ricorda per certi versi i melodrammi del cinema muto italiano. Intensa è l'interpretazione di Eleonora Rossi Drago che nel film si dispera, si strugge, piange continuamente, corre per le strade, si prende la pioggia, corre per queste lunghissime scalinate, tutti i topos tipici del cinema melò dell'epoca e l'attrice, che veniva chiamata affettuosamente dei fans Nora perché aveva un nome molto lungo, è una delle più raffinate e celebri attrici italiane degli anni 50 e 60. Lavora con i più importanti registi dell'epoca come ad esempio Blasetti e Antonioni e anche con Germi e Zurlini, con il quale tra l'altro vince il suo nastro d'argento per la bellissima interpretazione nel film Estate Violenta del 1959. Una curiosità, Eleonora Rossi Drago aveva un naso diciamo così importante e in questo film appare per la prima volta con un nuovo profilo. Infatti in quel periodo si era sottoposta a un'operazione chirurgica che era stata molto chiacchierata dalla stampa dell'epoca.